Assalamu alaikum, buongiorno, sono deputato Jabber, in Maldive oggi stiamo andando avanti per capire più chi è, che cosa fa, chi. Ora in questo programma faccio introdurre in lingua italiani, le buongiorno, io non sono in Italia, devo andare, come sto, a prendere io, non sono miei chapendi, ragazzi abbiamo fatto come questo. Ciao Se non ci sono scritto, come una designazione? Non è un'azienda. Non è un'azienda. Perfume, per lo stesso. Sta un'azienda, Armani, Tursani, Versace. E' tutto quello che si piace. Stai un'azienda che sono in cui è un'azienda. Non so se stai venire nella loro dressazione. Non so se stai in un'azienda, non so se stai in un'azienda. Non so se stai in un'azienda, non so se stai in un'azienda, non so se stai in un'azienda e non so. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 ma mentre ci sono corretto , allora scopriamo la mia amica sindicato. Giuseppe si non hoaresti luchare. Si l'ho più difficile da un momento, è una cosa per i gruppi di caratteristiche. Nella storia si è molto importante, Non c'è nessun ruolo, non c'è nessun ruolo, non c'è nessun ruolo. Quindi il fatto che il fatto pensare che il fatto a sulle persone che allo di ascoltare, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Quindi, il fatto che non c'è nessun ruolo, non c'è nessuno. E'cierto, allora siamo qui. Grazie. Il fatto che il rado della società è un leader di qua, è un leader di lui Ficola di Sia. Non si è preso, non si è preso, non si è preso, ne sono preso il senso. C'è Davide Descartes Di Berlusconati... ...e dei mai molti Orchesti. Noi. ...quman si non si non si è iniziato a tutti i nostri amici. Non si non è un po' più grande progettivo, non si è un po' più grande. In un po' più grande, non si è un po' più grande, non si è un po' più grande. Questo significa di un esplorato. Il nostro corso gratuito è un gruppo di qualità e un gruppo di qualità e un gruppo di qualità e un gruppo di qualità. Non ci sono i nostri amici, non ci sono i nostri amici, non ci sono i nostri amici. ughi e un bel can�io, un bel popolo del Corazzo, con altri allelki italiani, diceva che gli uomini la parla fissi. La parla fissica è la parla fissica, mi ha perso un suoβamento. Non ci sono moltissime, non ci sono azze famiglie italiana, ci sono i nostri amici anche Радjans pure. In questa parte era un'amica ma non a rielo, ma non si è ancora imposto. Se servono mangiare il Mondiale di questo tipo di lavoro di vendettolo, si sono i consigliare il Mondiale di vendettosci, e quindi se lo vedete, e vedete di voi, e se sentire niente con il Mondiale di vendendino, quindi ci si rispondeva insieme a tutti i vedi .... perchè ti aspetta la nära che è arrivata, ovviamente se pensi che se fosse stata all'ignata, però non aveva capire l'igno che stissi! Ma che ne ha già approcato un modo di stagione di vendettometro per il Mondiale, bisogna accensare il Mondiale di vendettino di vendettino di vendettino. Come si è il nostro porco fatto, in cui non si lo so, no, ma non si la mia mogu parla, non si lo so, no. Poi a fare un lavoro, non sono tutti i loro viventi. Quindi abbiamo scegliato nel corpo e così sempre andiamo alla la massa. Noi nonché, abbiamo tutti i loro viventi nel mondo. Poi il movimento è stato diverso. Non si è tutto dicendo quelli che era il mondo. Vivendo un altro con il corpo non ha fatto. Noi nonché unsucedor, nonché non stai mai dalla borsa per tutti i loro, non credo come così. Non ho bisogno di un altro suive, ma non ho bisogno di un altro. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info e dopo significa che noi pensi che una??? candi per tutta la corazione, sono state fissate hanno risciato, come se faccio il voto ci ha detto, come quando qualcuno ha fatto 10 hanno sentito 3 hanno riunioni di rispettora, e se sì pensi che poi ci sono un'attacco rispettone e non ci rispettano si capisce rispettare i rispettori per farlo non ci sono ci sono confronti Non è un problema, non è un problema, ma non è un problema. Non è un problema che si possa essere educato. Non ho avuto un'occhiato per l'elemento, non ho avuto una regione a fare un'occhiata. Il momento è che il ministro dell'Aulogia a fare un'occhiata. Il momento è che il nostro lavoro è un'occhiata, dove fosse un'occhiata. La nostra cosa è stata iniziata a fare una cosa che si serve. E' proprio un'aintezza. E' un'aintezza. E' un'aintezza che si usava un'aintezza. E' un'aintezza. Si a che io l'ai detto, si lo vedi il nostro cuore sui avessi, e' un'aintezza, che la mia casa è stata con un'aintezza. La nostra città è stata iniziata a fare un'aintezza. per esempio il suo numero di bambini e il nostro paese, che noi abbiamo bisogno di una bambina. Per esempio il nostro Paese, il nostro Paese, il nostro Paese, che ci sono stati aiutati? Come si arriva a tutti i nostri paesi? Come si arriva a tutti i nostri paesi, come si arriva a tutti i nostri paesi, come se arriva alla gente a tutti i nostri paesi. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info